Salve a tutti amici, oggi di nuovo in questa montagna c'è una bellissima giornata voglio portare di nuovo nella grotta dove sono andato ultimamente ora i sparaggi sono finiti, non ce n'è più mamma mia si scivola sono finiti, non ci sono sembra la cotta dove stavano le femmine. Cosa c'è la volta? C'è un buggato il divano? C'è l'acqua? Cosa c'è l'acqua? Cosa c'è l'acqua? Cosa c'è l'acqua? C'è l'acqua d'un buggato è stato attento avete visto come dovete sono caduto Guarda dove ci buttano. Poi ci vediamo le sedie, i vestiti, un sacchetto di carta. Un pezzo di carta, bottiglia, bottiglia, bottiglia ce lo fanno. Poi c'è questa carta, camera d'aria. E niente. Che devo raccontare? Troppo ancora senza lavoro. Con youtube non si può sperare. Ancora 47 iscritti, pochi e niente. Non se ne guarda nessuno video. Non lo posso fare. Io magari così non lo posso fare. Non lo posso fare. Non lo posso fare. Non lo posso fare. Mi pulamente tranquillo il resto della vita. E la mia vita ultima. Il resto che ho detto qui. un saluto a tutti tutto il RRS Federico Cine Mimmo Mans quelli che mi seguono i miei fan un saluto